E bentornati a Il Gusto nella sfida, il format dell'Istituto Organi di Marchi che vede confruttarsi le 18 aziende del gruppo con altre tante scelte. Avrete notato che si tratta un po' di un canone inverso, generalmente si parte da un piatto e si trova l'abbinamento con il vino, in questo caso facciamo il contrario, si parte da un vino per trovare il piatto perfetto, si sfidano di scelta per questo. Oggi ci scostiamo nella bellissima splendida Sicilia, siamo in una delle cantine più famose al mondo, Tasca d'Almerita. Ad aprirci le porte di questa cantina è il titolare Alberto Tasca che ci presenta il contratto a Scela Nuova, Vigna Recchia, un nerello mascalese del 2016. A te la linea Alberto. Allora, lanciamo questa sfida da tenuta regaliali, dove la storia della famiglia Tasca iniziò l'attività nella produzione di vini e nella cultura della vite, ma la sfida che faremo allo chef avverrà con un vino di un'altra tenuta, è una delle ultime tenute nate in casa Tasca, siamo sull'Etna, la tenuta si chiama Tascante e il vino viene da una contrada che si chiama Contrada Saranova, Vigna Recchia, è una vigna che ha più di 70 anni, ogni contrada ha un'epoca diversa, significa che proviene da eruzioni vulcaniche con epoche e storie molto differenti l'uno dall'altra e questa differenza fra i suoli e delle eruzioni diverse ha un impatto sui vini creando delle sfumature particolari. L'Etna è un progetto che nasce nel 2002 come ricerca, l'ultimo di un progetto di una ricerca continua di territori in Sicilia che avessero delle attitudini ben particolari, quindi uniche riconoscibili, dovute molto spesso all'analchimia fra le varietà coltivate e i suoli in cui si trovano. Sull'Etna il progetto è molto divertente, è una varietà principale per i vini rossi che si chiama Nerello Mascalese, in qualche occasione viene anche abbinata in uvaggio con Nerello Cappuccio e per le varietà bianche viene usato invece il Caricante e il Catarratto. Allora la sfida è lanciata allo chef Pino Kuttaia nel ristorante Lamadia di Licata, andiamo a vedere Pino cosa ha combinato. Alberto Tasca ha lanciato la sua sfida ad accoglierlo uno degli chef più talentuosi del nostro paese, stiamo parlando di Pino Kuttaia, il suo regno è Lamadia, ristorante di Licata, provincia di Grigento, ma facciamo un piccolo spoiler, non credo che troveremo Pino oggi è Lamadia. Sono nella tenuta di Regaliali dove Alberto Tasca mi ha sfidato tra l'abbinamento tra vino e cibo. Ovviamente il suo vino è un Nerello Mascalese e prodotto sull'Etna e dove l'abbinamento che ho pensato io racconta una storia, una storia tra pescatore e pastore, questi due mestieri dove non sono altro che un patrimonio legato alla cultura gastronomica e dove per attingere agli ingredienti pensate un po' che negli anni passati si facevano i compari. In Sicilia il compare è una figura molto importante per cui dopo la famiglia, dopo i figli e la moglie c'era subito il compare. Allora il compare appena c'era la produzione o del pesce o del formaggio si pensava subito a questa figura importante familiare. Per cui il cuoco alla fine non fa altro che interpretare il passato magari in maniera più contemporanea e creando così come una caccia e pepe ero fatto ovviamente con la tuma persa e dare una sapidità attraverso la bottarga e anche la freschezza del limone. Un abbinamento che trovo molto interessante con il Nerello Mascalese proprio perché ha le stesse caratteristiche quasi del piatto e perché in questo caso la caratteristica del Nerello Mascalese è proprio la freschezza e la sua piccola acidità insieme alla sua mineralità che tente a pulire il palato rendendolo proprio un connubio perfetto. Non mi resta che farvelo provare nel mio ristorante quanto prima proprio per condividere questo pensiero. Ciao Alberto. Eccoci, devo venire a provare. Sì, infatti io ti ho fatto una sorpresa, spero che è di tuo gradimento. Ecco, questo abbinamento tra Tuma Persa e Bottarga, ho raccontato prima proprio l'unione di due mestieri, di baratti tra pastore e pescatore e dove col tuo Nerello Mascalese secondo me è una coppiata ideale. Devo provare subito. Posso, vero? Certo, certo. Solo tu, un matto, vuoi fare cazzo a mare e pesca. Quassaggio col vino che secondo me è la cosa... Già, c'è un'intensità incredibile. C'è un'intensità da tutte e due, c'è campagna e mare insieme. Esatto. So che quanto prima verrete tutti i produttori a assaggiare quello che tutti noi abbiamo scelto come abbinamento, vi aspetto allora nel mio ristorante. Secondo me li stupirai con questi. Bravo. Grazie. Che dire, grazie ad Alberto Tasca e grazie a Pino Cuttaglia. Ci avete regalato i sapori, i profumi, i colori, le emozioni della vostra bellissima Sicilia. È anche un abbinamento straordinario perché non è stato soltanto l'abbinamento tra un grande vino, questo Nerello Mascalese, questo Etnadoc e un piatto di uno chef straordinario. È stato proprio un racconto, una storia, che ha visto la Tuma persa, un prodotto che veramente, come dice il nome, era stato perduto quasi un secolo fa ed è stato ritrovato e al tempo stesso la Botttaglia, un grande classico delle nostre estate, uniti insieme per un grande piatto, per un grande vino. Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti di Il Gusto nella Svita.